Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo puntata che praticamente siamo nel bel mezzo proprio del nulla più totale e soprattutto nel buio più totale come stiamo vedendo adesso siamo nel boschetto che abbiamo già registrato in passato delle puntate denominate tipo 200 appunto del boschetto misterioso ma adesso dobbiamo provare questa nuova telecamera e adesso andiamo a impostare la telecamera con la funzione luce aggiuntiva anche se come vedete di luce aggiuntiva non ce n'è molta e in più manda anche fuori fuoco la scena però come vedete è abbastanza anche ben definita anche al buio l'immagine e poi c'è come seconda impostazione anche la luce della nostra telecamera che praticamente già migliora l'immagine di un pochettino infatti come vedete adesso mi devi fare come valletta come vedete Pietro il nostro EV98 si vede abbastanza bene e ben definito però come vedete appunto non è che sia chissà che però è già una telecamera migliore del nulla aspetta riprendi questo bobo dai no un bel fancola bobo da parte di tutti va bene io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo ciao ciao